La prua del barchino emergeva e si immergeva a seconda dell'altezza della marea e dal ponte dei Cavanis ogni tanto la si vedeva e talvolta scompariva spostandosi seguendo con calma le correnti. Oggi la prua del barchino, un relitto storico che da anni vaga in questo specchio di laguna, è stato avvistato e segnalato ai vigili del fuoco che prontamente sono accorsi per il suo recupero a bordo dell'autopompa lagunare. Lo hanno accompagnato fino allo scivolo lungo la passeggiata dell'Usenzo all'altezza di Borgo San Giovanni e si sono cimentati in forze per hissarlo. L'acqua bassa e la vicinanza alla parete hanno impedito che l'APL potesse fare da sostegno alle operazioni e a braccia gli uomini hanno tentato ripetutamente di hissarlo o di portarlo in una posizione più favorevole. La prua della barca non forniva nessun appiglio per poter agire diversamente. Gli uomini l'hanno quindi messa in sicurezza ed evidenziata dal nastro bianco e rosso non potendo fare altro. Poggiate sullo scivolo c'erano altre due barche, una delle quali con tracce di una lunga permanenza in acqua. Per il relitto recuperato oggi erano stati affatti appelli per il suo recupero in quanto avrebbe potuto costituire un problema per la navigazione. Stranamente non era stato recuperato insieme agli altri relitti che costellavano i piloni del ponte Passerelle in legno tolta nelle scorse settimane. Era rimasto da solo quasi invisibile i naviganti che in questo tratto talvolta corrono. Benvenga quindi che sia stato recuperato. Dal 1978 a Borgo San Giovanni a Chioggia la pasticceria Serenissima propone la sua caffetteria, la sua pasticceria artigianale dolce e salata e le gustose torte per tutte le occasioni e ricorrenze. Gusta la tua colazione alla pasticceria Serenissima con la sua selezionata caffetteria e le sue brioche artigianali. Pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni a Chioggia.